Il traffico di organi viola i principi di giustizia, uguaglianza e rispetto della dignità umana ed è diventato anche una forma di schiavitù che sfrutta i lavoratori in condizioni di povertà, le popolazioni migranti e i rifugiati in fuga. Di questo e di altro si è parlato al Summit internazionale organizzato il 7 e l'8 febbraio scorsi dalla Pontificia Accademia delle Scienze, per riflettere sul dramma del traffico di organi e sul cosiddetto turismo dei trapianti. Alla due giorni, presso la casina Pio IV, hanno partecipato specialisti provenienti da oltre 20 paesi dei cinque continenti, funzionari statali, ricercatori, magistrati e giornalisti che da anni si occupano di questo tema che rappresenta ormai un'emergenza sociale. Ci sono state due fasi nel controllo del traffico di organi umani nel mondo. La prima con l'Organizzazione Mondiale della Salute e con i governi che hanno concordato nell'emanare leggi a riguardo. La seconda con i professionisti, creando standard e linee guida per l'autoregolamentazione dei professionisti. Nonostante questo, il traffico di organi continua in troppi luoghi del mondo. Abbiamo bisogno della forza dell'autorità morale che ci fornirà questo incontro. E' la prima volta che i rappresentanti di tutti i maggiori paesi del mondo si trovano per discutere, verificarsi anche in un modo abbastanza diretto le problematiche. E quindi si vedono numeri che non abbiamo mai visto prima, si capiscono meglio alcune situazioni critiche, soprattutto in questo caso sono stati presentati stamattina i problemi africani. E noi come Italia abbiamo dato un contributo su quello che riguarda il problema dei migranti. Ogni paese è colpito da questo dramma, ciascuno è coinvolto. Chi ha una malattia fatale che si può curare con il trapianto è disperato. Se un figlio ha quella malattia si è disperati. Cosa non si farebbe per salvare il proprio figlio? Cosa non si farebbe per salvarsi? In questo sa il problema del paziente, elemento che viene sfruttato dai trafficanti, da gente che vuole fare i soldi. Se si è caduti nella miseria, se si è rifugiati bloccati nel deserto, senza via di scampo, cosa non si farebbe per uscire dalla povertà? Anche se azioni del genere sono di solito una delusione. Pertanto esistono queste due spinte umane. Da una parte la disperazione dei malati e dall'altra la disperazione dei poveri, ma ci sono troppe persone al mondo che sono pronte a sfruttare entrambe. Questa è la causa del problema. Un migrante che era passato dal Sudan ed era venuto verso la costa nord africana, si è trovato in Italia, attraverso un controllo medico fatto per caso, un'ecografia ha dimostrato che aveva un'incisione chirurgica e non aveva più un rene. E questo migrante ha dichiarato, che è sparito dopo, ha dichiarato che l'organo gli era stato anche in questo caso tolto nel deserto. Sicuramente non sono organi tolti nel deserto. E quindi ci sono delle strutture sanitarie in paesi con una elevata capacità trapiantologica che sono in grado di accettare e sfruttare queste persone in maniera eticamente ignobile e commettendo reati. Reati che però probabilmente non sono accertati nel paese dove avvengono.